Ines, torna dentro! Sono ancora al telefono! Sì. Sì, ma che altro ha detto? Ho quasi finito, papà. Sì, va bene. Sì. Domani, in ogni caso, mi faccio risentire e... Sì, ti chiamo io. Sono contenta che ci siamo sentiti. Ciao. Tutto ok? Sì, solo un po' di stress. Vai già via? Sì, sì. Vieni a colazione dalla nonna domani. Ho il volo alle 10. Ma perché le hai detto che sono qui? Ah, non c'è problema. Mi chiamerò Inge. Chi? Ho dovuto assumere una sostituta come figlia. Fantastico. Così magari gli auguri per il compleanno te li fa lei e io non mi strasso più. Era soltanto uno scherzo. No, no, magari sono ancora sporco di trucco. Già. Oh, me ne ero dimenticato, Renate. Sentiamoci su Skype uno di questi giorni. Sì, certo. Ora Skype mi funziona. Non dovrebbe lavorare tanto. Ma perché fa quello che le piace?